Dopo tanto caldo sulla nostra regione arrivano condizioni di tempo diverse. Nella giornata di sabato un veloce fronte freddo che arriva dal nord atlantico porterà un peggioramento probabilmente già nelle prime ore del mattino con piogge da moderate e da abbondanti, localmente anche intense, con temporali che in alcune occasioni potrebbero essere anche forti, specie sulle zone orientali della pianura e anche sulla costa. Dopo un po' di scirocco al mattino entreranno venti più freddi settentrionali in quota e sofferà la bora sulla costa anche sostenuta nel corso del pomeriggio della serata. Deciso miglioramento per domenica, tempo stabile, c'è in prevalenza poco nuvoloso, temperature che riprendono intorno ai 24-25 gradi valori massimi, un aumento della nuvolosità in serata sarà il preludio di un nuovo cambiamento molto repentino che arriverà lunedì mattina, qualche scroscio, qualche temporale nel corso della mattinata di lunedì e poi anche qui un rapido miglioramento con un cielo in prevalenza sereno. Le temperature però, l'inizio della prossima settimana, sono destinate a calare, probabilmente martedì le massime resteranno sotto i 20 gradi su pianura e costa e farà ben più freddo in montagna con lo zero termico intorno ai 1600 metri circa. Buon fine settimana a tutti!